tutti quanti tutti quanti non venire a scordare manco un che gli dico che li vuoi vedere tu no non voglio che sappiano questo lo voglio vedere con i miei occhi che faccio faranno quando mi trovano a capo c'è io che gli racconto questi però gli dici che ci sta un grosso affare da trattare cocaina va bene cocaina e gli dici pure che te l'ho detto io vedrai che non ti faranno troppe domande allora va aspetta ognuno di loro non deve sapere degli altri perché ognuno di loro deve pensare che che una cortesia che faccia lui solo a lui che vede va bene Ma che è sta pagliacciò? Ma che devi misurare la profe? Non vuoi niente. Che c'è? Avete visto un fantasma? Che stai pure tu? Pensavo fossi ancora dentro. Sono uscito da due mesi e vincendo. Bene, bene. Sto contento. Mi sono contento se ci riesco con buona nuca. Da quella porta sono entrato. E fra un minuto da quella porta esco. Voi? Non mi avete mai visto. Ecco, hai una risposta questa? Ma tenete sempre in mente una cosa. Io sto sempre in giro. Che ne stanno tanti in giro. Sì, ma io in modo diverso però. Bisogna vedere se è migliore. State zitta. Quando parli, state zitta. Volete sapere perché state qua? Per un motivo solo. Da oggi, come hanno nato a votare io. E chi l'avrebbe deciso? Sei diventato democratico. Vuoi che facciamo ai voti? Votaggio ricordato che chi aveva posto da gelivato? I timbi cagliano, vedi? E tu sei stato troppo timbi anche a lei. Giusto. Giusto. Bravo. Ma la galera serve. Solo se sei capace di far capire agli altri come finci. Hai capito? Bravo. E' un'altra cosa la faccio. E' un'altra cosa la faccio.